Colazionissima! Musli di mango e avena con mirtilli e anacardi. Musli in tedesco significa mescolamento, purè, è un mix di cereali, semi, noci e altra frutta secca e o fresca, accompagnato dal latte vaccino o latte vegetale, yogurt, succhi di frutta. Il musli che vi propongo oggi unisce cereali e frutta, energia e freschezza, colore e gusto. Pronti per una colazione tropicale? I suoi pregi principali, depurativo, antiossidante e dimagrante. Una ricetta smart, veloce e intelligente per quando ci svegliamo positivi ed energici e ci sentiamo pronti per un sano detox mattutino. Usiamo il mango. In India il mango è il re dei frutti e simbolo dell'amore. Ecco come si prepara. Musli di mango e avena. Colazione vegana per due persone. Un mango, due cucchiai di fiocchi di avena, 150 ml di succo di mango, tre cucchiaini di mirtilli americani essiccati, cranberries, due cucchiai di anacardi. 1. Tagliare la frutta. Tritate finemente i mirtilli americani, cranberries, sbucciate il mango, togliete il nocciolo, tagliate la polpa a dadini. 2. Mescolare frutta e cereali. Mescolate cranberries e mango con i fiocchi di avena e gli anacardi. Unite il succo di mango. Versate in due tazze e aggiungete a piacere latte o ancora meglio latte di soia, riso, avena, mandorle. E adesso gustatevi il muesli con avena, cranberries, anacardi e mango. Proprietà degli ingredienti. Il mango è un depurativo, un dimagrante, un rimedio anti-stitichezza che abbassa il colesterolo. I cranberries sono diuretici, astringenti, tonificanti, rifrescanti, sono anche antiossidanti e infiammatori. I fiocchi d'avena sono cereali con proteine, grassi insaturi e vitamina B. Hanno una maggiore concentrazione di fibre e sali minerali. Gli anacardi abbassano il colesterolo cattivo e regolano la funzionalità intestinale. Favoriscono il senso di sazietà. Per conoscere altre ricette di buone colazioni per iniziare bene la giornata, guarda la mia playlist dedicata. Mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!